I contagi salgono, a livello nazionale si spinge sempre più sulle vaccinazioni con la fascia da 40 in su che dal primo dicembre potrà ricevere la terza dose, mentre contestualmente si attende l'ok per la vaccinazione ai bambini sotto ai 12 anni. Si è parlato anche di questo nel convegno organizzato da Rotary su pandemia, infanzia e scuola, che ha avuto relatori di primo ordine. Occasione per fare il punto della situazione anche in relazione all'occupazione degli ospedali. All'Aquila la terapia intensiva è vuota, ma nel riparto di malattie infettive ci sono circa 15 ricoveri, ma si è ben lontani dalla situazione dello scorso anno per il primario Alessandro Grimaldi. Abbiamo avuto dei focolai e quindi un afflusso abbastanza importante di ricoverati per Covid. In questo momento c'è una fase di assestamento e quindi non c'è una grandissima pressione sul reparto. Abbiamo 15-16 posti letto occupati e siamo arrivati fino a occuparne la totalità, cioè 24, ma questi erano legati prevalentemente a alcuni focolaio, in particolare a un focolaio che si è sviluppato nell'area di Sulmona in un RSA e che ha portato parecchie persone, soprattutto anziane, in reparto. Per il medico sarà importante anche la vaccinazione nei bambini dai 5 agli 11 anni, che ad oggi rappresentano la maggior parte dei contagio e che sono più esposti al virus. vaccinarli è essenziale per gli esperti, perché i bambini, pur avendo una sorta di immunità, possono sviluppare il long Covid e avere conseguenze. Già negli Stati Uniti, dopo l'approvazione dell'FDA, dell'uso di Pfizer, per i bambini dai 5 agli 11 anni, si sta andando spediti e hanno già vaccinato un milione di bambini. È verosimile che se ci sarà un'approvazione anche da parte di EMA, ma probabilmente la stessa cosa verrà fatta in Europa e in Italia. Quindi sostanzialmente l'auguri è questo, anche perché non bisogna dimenticare che purtroppo ci possono essere delle conseguenze importanti del Covid sui bambini. Non è tanto l'infezione acuta, ma quello che può venire dopo il Covid. Nel senso che alcuni bambini sviluppano il long Covid e in particolar modo degli effetti collaterali molto importanti.